Musica Render omaggio a personalità femminili considerate un esempio, in quanto artefici di risultati importanti in diversi campi, culturale, sociale, sportivo, della ricerca e non solo. Dal 2010 il premio internazionale Donna di Fiori, promosso dalla scuola Fioristi Friuli Venezia Giulia di Isola Marosini, eccellenza regionale nel campo del design floreale, celebra i percorsi professionali e umani di donne della società moderna. Nove le protagoniste della sesta edizione, ospitata recentemente al Teatro Pasolini di Cervignano del Friuli. La campionessa olimpica e dirigente sportiva Manuela Di Centa, l'ex annunciatrice televisiva, conduttrice e attrice Maria Giovanna Elmi, la giornalista del Messaggero Veneto Luana De Francisco, la regista Rai Claudia Brugnetta, la pittrice carnica Alpina della Martina, la psicologa romana Catriona Montemolino, l'airstylist Manuela Braida e poi ancora dalla Romania Iulia Silvana Dragut, componente del direttivo mondiale Lady Chef e Vislava Ushai del direttivo nazionale sloveno della Croce Rossa. Nel corso della serata, tra le varie iniziative, sono stati consegnati anche due riconoscimenti speciali da parte dell'associazione cervignanese Progetto Futuro, rispettivamente a Nadia Narduzzi, vicepresidente della sezione regionale dell'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, per il coraggio nel portare avanti gli obiettivi dell'associazione stessa, e a Luciana Degano per l'impegno nel mondo associativo. Il premio Donna di Fiori vuole celebrare la donna, la donna che nella sua vita professionale, artistica, anche di mamma, ha raggiunto degli obiettivi importanti. Non necessariamente donne famose, in questa edizione ne abbiamo due veramente famose, ma le altre tante volte non sono molto conosciute, ma veramente hanno raggiunto, hanno fatto delle cose importantissime e noi con questo premio vogliamo proprio portarle alla ribalta. Sono tante le considerazioni emerse questa sera, grazie anche alle parole delle premiate, l'importanza anche della tradizione, l'importanza anche del territorio, della carnia al centro di questa serata. Certo, soprattutto abbiamo iniziato proprio con tre donne che sono nel territorio carnico, quindi con Manuela di Centa, con Maria Giovanna Elmi, abbiamo concluso con una donna che in effetti non è così conosciuta come le prime due, Alpina della Martina, che con i suoi acquerelli riporta fuori proprio il territorio carnico attraverso i fiori, i volti, i ritratti, attraverso la natura. Una serata veramente all'insegna dell'eleganza, ma l'eleganza dell'animo, l'eleganza del cuore che si esprime attraverso talenti che sono espressione a loro volta di solidarietà, di civiltà, di democrazia, di competenza, di conoscenza e che hanno alle spalle e davanti tanto impegno, tanta progettualità, passione e entusiasmo. Ecco veramente un omaggio a quei talenti che sono un po' esemplari, perché devono rafforzare anche quel senso di autostima che a volte alle donne manca. Ci sono tante donne talentuose, però ecco c'è questo poco riconoscimento, questo mancato riconoscimento. Innanzitutto loro stesse ne hanno poca consapevolezza a volte, proprio perché mancano della giusta autostima, ma c'è anche un mondo, un mondo di maschi ancora che non mette nelle condizioni la donna di affermarsi e di promuovere quel ruolo di pari dignità, di pari opportunità che una società veramente civile ormai al giorno d'oggi richiede. Abbiamo tanto parlato di amore questa sera, di amore e di cultura del rispetto, perché questo è fondamentale. Il rispetto della diversità, il rispetto in un mondo di reciprocità e di dialogo. È un messaggio anche che dobbiamo dare forte alle nuove generazioni. È un premio graditissimo, ha una gentilezza nella sua presentazione, perché Donna di Fiori già racchiude una gentilezza e questa gentilezza mi piace raccoglierla qua nella mia regione, in Friuli Venezia Giulia, che ha anche un significato che molto spesso si dice essere riconosciuti a casa tua vale ancora di più. Beh, devo dire di sì, fa molto piacere questo, fa molto piacere. Anche perché qui ci sono le radici, qui è la terra, qui è il luogo dove non solo si raggiunge qualcosa, ma soprattutto si lavora e si lavorano tanti anni, per tanti anni, per raggiungere qualcosa. E quel qualcosa è il risultato non solo di te stessa, ma del tessuto dove sei nata, cresciuta, il tessuto sociale, culturale, sportivo, familiare. Ho parlato appunto anche delle difficoltà che ha trovato nel mondo sportivo. Ho scelto uno sport che adesso è uno sport femminile, armonico, come si suol dire va di moda, ma allora era uno sport pensato esclusivamente per i maschi, non esisteva la squadra nazionale femminile, non si pensava all'azzurro in femminile e c'era tutta una strada da tentare allora di percorrere e per poi non sapere dove arrivare. Però ecco, le radici, quando tu hai le radici forti e sai che quella cosa ti piace, sai che quella cosa ti appartiene, sai che sciare è una cosa che senti nelle tue viscere, nel tuo cuore, nella tua mente, sai che non basta solo sciare, ma bisogna anche studiare per essere capaci poi magari anche di rispondere nel giusto modo a chi ti dice che una ragazza deve stare a casa a fare la calza, come ti rispondevano in quei tempi, no? Però essere l'espressione di quello che è una persona che vuole essere se stessa, che vuole crescere, che vuole sperimentare se stessa nelle cose che pensa che siano le cose più idonee per lei. Per me era sciare, come poi lo è diventato anche cimentarmi nella politica, diventare dirigente internazionale di sport, dove nel mondo c'è molto da fare per lo sport, anche per l'eguaglianza, per l'equilibrio di genere, anche lì. Sono molto fiera, molto contenta, io amo molto questo territorio, quindi un riconoscimento da parte del territorio che amo, che apprezzo, mi lusinga molto e mi fa veramente tanto piacere, è un gran regalo. Stasera è stato messo in luce anche il suo forte contributo a tutela della natura, anche a rappresentare i nostri territori, la nostra montagna. Sì, beh, qui c'è una natura da urlo, è tutto bello qua, e belli sono i messaggi che arrivano da questo territorio, e secondo me si potrebbe fare ancora di più, promozionarlo ancora di più. Comunque già si fa tanto, e io ce la metto tutta, e vedo comunque che vengo sempre molto ascoltata, per cui quando invito, io dicevo, delle colleghe, ma anche amici, non so, Barbara Busce non è una mia collega, è un'attrice, è un'amica, è Enzo Paolo Turchi con la moglie Carmen Russo, non so, tanti, tanti. Sono venuti tutti, ma tornano, Alda Deusani, ma sono tornati non so quante volte. Quindi vuol dire che non solo vengono per la curiosità, perché ho racconto loro di questi posti bellissimi, però poi tornano con una gioia, la Vaudetti, la Urso Mando, non so più come fare, delle volte, tutti insieme. Conoscimento importante per un filone anche di inchieste, non semplice, forse sempre da affrontare, anche essendo donna. No, non è semplice da affrontare, ma non è una questione di genere, secondo me, perché non è facile fare i giornalisti, non è facile fare i giornalisti con la schiena dritta e senza la paura, per esempio, di incorrere in una querela, senza autocensure. Ci si prova, lo si fa, e infatti secondo me questo premio è dedicato a tutti quelli che riescono a farlo, in tutta Italia, uomini e donne, donne e uomini. È ovviamente un'emozione grandissima, perché essere premiati per il tuo lavoro, che fai con passione, con dedizione da tanti anni, è senz'altro un attestato e mi sprona a fare sempre di più e sempre meglio, ecco questo senz'altro. Da donna premiata questa sera, un messaggio, una riflessione che ti senti di porre alle nostre telespettatrici? Ma è quello di cercare veramente di inseguire, di non mollare mai. Ripeto, non è un discorso di genere, cioè ci sono stati tanti ostacoli, vero, nella nostra storia, nei confronti di noi donne. Penso che non sia più così, penso che le possibilità ci siano per tutte. L'importante è essere determinate, certo abbiamo tante difficoltà, perché ci sono le donne che fanno le mamme, ci sono le donne sposate, ci sono le donne che devono prendersi cura dei genitori anziani, ci sono tantissimi problemi, tantissime difficoltà, però se un sogno lo coltivi e lo coccoli e metti in conto anche tanto sacrificio, penso che ci si possa arrivare. Io sono molto soddisfatta nel mio piccolo di quello che sto facendo. Per lei cosa rappresenta questa serata e le riflessioni che ne sono conseguite? Beh, è un grande momento, perché insomma non è che si parla poi tanto di donne e credo che in questo momento sia non necessario fondamentale ricordare che esiste un mondo femminile straordinariamente grande, importante, che riesce, come dire, alle volte a svolgere compiti che spesso gli uomini non riescono più a, come dire, a portare avanti con l'entusiasmo che magari avevano anni addietro. Ricordiamo che è un momento molto particolare per la donna che sta subendo violenze di ogni genere fino ad arrivare a estremi casi, quindi questo premio è ancora più importante e va dedicato veramente alle donne in sofferenza. Grazie a tutti.